Come Cassandra Ciao Cassandra Allora, adesso ti riascoltiamo in una cover che si chiama Can't Fight the Moonlight una cosa, l'ho letto bene l'inglese Hai detto benissimo di Leanne Rines e mi ricordo un film, Le Ragazze del Coyote Ugly come mai hai scelto questa canzone? Ma guarda, è fresca comunque, giovanile anche se è un po' vecchiotta magari visto che il film è uscito da un bel po' però insomma, ho sempre sognato quel bar un po' così come le ragazze del Coyote Ugly quindi mi ricorda molto quando ero piccola Allora, basta chiacchiere lasciamo lo spazio e la sua voce Cassandra! Allora, basta chiacchiere 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti